numero 5 questo modello ha una funzione di scarico che vi permetterà di riparare e alimentare le batterie ricaricabili danneggiate proteggendole questo dispositivo a batteria ricaricabile a è anche compatibile con le batterie ricaricabili a l'unità è alimentata dalla rete e richiede una tensione di 500 milliampere questo modello a 8 batterie dispone anche di un sistema di protezione dal surriscaldamento la funzione di spegnimento automatico permette di ottimizzare il monitoraggio del processo di ricarica se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione numero 4 questo caricatore ha un controllo individuale per caricare ogni batteria in modo efficiente secondo le tue esigenze le batterie non sono incluse include anche uno schermo lcd per visualizzare in tempo reale la carica il tempo rimanente la tensione ai terminali e la capacità accumulata di ogni batteria è appositamente progettato per le attrezzature fotografiche che funzionano con batterie ricaricabili con funzione di scarico della batteria e protezione dal surriscaldamento è compatibile con le batterie aa al nickel cadmio e nickel metallo idruro il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 3 questo caricatore per batterie ricaricabili aa può caricare due o quattro batterie simultaneamente in meno di quattro ore a seconda della capacità della batteria le batterie non sono incluse e devono essere caricate in coppia per prestazioni ottimali è compatto e leggero include una porta usb con un'uscita di 500 milliampere ora per caricare uno smartphone o qualsiasi dispositivo portatile questa porta ha la priorità sulla ricarica della batteria così quando finisce la ricarica tramite la porta usb riprende automaticamente la ricarica delle batterie ha una protezione da sovraccarico che rileva automaticamente la piena carica individualmente e l'inversione di polarità trovi il link di questo articolo in descrizione numero 2 questo caricabatterie intelligente per pile ricaricabili aa e aa con 8 slot per con led può ricaricare due o quattro o sei o otto batterie insieme alla volta basta che siano in coppia 4 led mostrano lo stato di carica arresta la carica automaticamente quando rileva tensione impropria dell'input un difetto un cortocircuito o le batterie che non sono ricaricabili le sue dimensioni sono 175 per 7,7 per 2,6 centimetri e pesa 170 grammi trovi il link amazon di questo prodotto in basso nella descrizione numero 1 il modello ebl 808 è il caricabatterie ricaricabile più versatile sul mercato la sua ricarica intelligente rileva la capacità di ogni batteria per prestazioni ottimali e lunga durata permette di caricare simultaneamente 2 4 6 o 8 batterie ad alta capacità aa e aa nickel cadmio e nickel metallo idruro dispone di rilevamento automatico di sovracorrente sovratensione per prevenire il sovraccarico e protezione da cortocircuito e inversione di polarità in descrizione trovi il link su amazon di questo prodotto